Salve, articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto l'altro obbligo se non la loro registrazione per suffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che i statuti e i sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono rappresentati unitariamente in popolazione dei loro iscritti, stipulare contratti con dei tipi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Tutta questa roba non serve a un cazzo perché non servono i sindacati visto che il lavoro in un collettivo anarchico non esiste e quindi ha forse risolto anche questa cosa.